se ti piacciono i temi che affronto iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e ricevere una notifica ogni volta che esce un video relativizzando l'universo e cercando di capirlo molti personaggi nel corso della storia hanno ipotizzato teorie per la maggior parte della loro vita sono i fisici teorici che analizzando i dati che abbiamo in possesso riescono tramite un bagaglio enorme di conoscenza a stilare supposizioni teorie che la maggior parte delle volte in seguito molto spesso dopo degli anni vengono confermate dalla scienza stessa prendete la teoria della relatività generale per esempio oggi siamo qui riuniti tutti insieme come sempre per distogliere lo sguardo che è sempre rivolto verso i nostri piedi e puntarlo verso l'ignoto puntarlo verso il cosmo tutte le risposte sono qui nell'universo nel 2015 un'equipe di 200 ricercatori guidati da tabita bojan della louisiana state university hanno puntato lo sguardo a 1500 anni luce di distanza in direzione della costellazione del cigno più precisamente sulla stella k ic 846 2852 scoperta dal telescopio spaziale kepler che ha come missione principale quella di scoprire esopianeti fissando le stelle captando diminuzioni anche minime di luce prodotte ed eventuali pianeti che orbitano intorno ai propri soli gli esopianeti posti alla giusta distanza dalla propria stella ne sono stati scoperti a migliaia molte seconde terre se così possiamo definirle sono state scoperte ma qual è la particolarità della stella di tabby chiamata così in onore della ricercatrice della louisiana state university la particolarità risiede nel fatto che la stella di tabby che è mezza volta più grande del nostro sole a differenza delle centinaia di migliaia di altre stelle osservate non presenta una diminuzione di luce minima come se un pianetupolo ci orbitasse intorno a una diminuzione un offuscamento di luce talmente rilevante che qualcosa di più grande della stella stessa ci dovrebbe stare davanti ora non tutti lo sanno ma se due stelle stanno troppo vicine si straggono creando un cataclisma nucleare di dimensioni spropositate insomma l'ipotesi che qualcosa di più grande della stella di tabby gli orbiti intorno è stata scartata a mani basse dagli scienziati ma allora cosa ha provocato un offuscamento di luce talmente grande altre teorie hanno portato a riflettere su una qualche massa di asteroidi che orbita intorno alla stella ma anche questa teoria è stata scartata poiché gli ammassi di asteroidi orbitano soltanto intorno a stelle giovani appena nate e non è il caso di tabby visto che si tratta di una stella che ha circa 6 miliardi di anni altre ipotesi riportano una qualche sorta di pulviscolo molto caldo creatosi da un cataclisma celeste avvenuto nelle vicinanze occhio che quando dico vicinanze si parla di anni luce comunque sia gli offuscamenti non sono fissi l'osservatorio di last chambers dal 2015 al 2017 ne ha rilevati 4 e se una qualche sorta di pulviscolo spaziale immenso stesse passando vicino alla stella tabby l'offuscamento di luce rimarrebbe tale rimarrebbe fisso visibile per centinaia di migliaia di anni quindi ancora la stessa domanda cos'è che a tratti offusca una stella più grande del nostro sole il mistero della stella tabby è talmente grosso che 1700 americani hanno donato 100 mila dollari per la ricerca attraverso una campagna kickstarter di crowdfunding per aumentare i fondi disponibili incoraggiando il progresso tabby taboyjan scienziato capo dei 200 ricercatori che hanno gli occhi puntati sulla stella di tabby ha detto se non fosse stato per queste persone che hanno uno sguardo imparziale sull'universo questa insolita stella sarebbe stata trascurata e ancora senza il supporto pubblico non avremmo mai avuto questa grande quantità di dati da analizzare ottenuti da questa lunga sessione di osservazioni dedicate alla stella in questo video ho dato per scontato che voi abbiate una conoscenza concreta delle grandezze cosmiche se non ce l'avete vi basti pensare che il sole ha un milione e 330 mila volte il volume della terra ecco cosa può creare l'offuscamento di una stella più grande del sole le ipotesi e gli studi riportati all'interno di questo video non sono stati redatti da qualche invasato ma da ricercatori e scienziati che dal 2015 non riescono a darsi una risposta jason wright della penn state university ha ipotizzato che l'unico ragionamento logico che rispetti le leggi della fisica e del cosmo stesso stia nel fatto che attorno a questa stella sia stata costruita una sfera di dyson una struttura immensamente grande grande in modo apocalittico costruita intorno alla stella per rifornirsi di energia pulita una sfera di dyson ipotizzata dall'astronomo inglese freeman dyson è una struttura di rivestimento che potrebbe essere costruita alla giusta distanza avvolgendo una stella pensate ai pannelli solari ecco adesso pensate al fatto che prendendo i numeri della stella di tabby ogni pannello che compone la sfera di dyson dovrebbe essere grande come la luna un'impresa apocalittica che jason wright attribuisce a una qualche sorta di civiltà iper tecnologica che abita a 1480 anni luce di distanza dalla terra immaginatevi soltanto a quanta energia servirebbe per mandare in orbita un pannello grande come la luna adesso immaginatevi a quanti pannelli grandi come la luna servirebbero per apporgere una stella più grande del sole non esistono dati certi che confermino tale teoria anche se quest'ultima pur sembrando fantascientifica è la più accreditata secondo centinaia e centinaia di scienziati a me vivere il corpo soltanto a pensarci poiché le implicazioni di un'impresa talmente abnorme sono fantastiche ipotizzando che questa sfera di dyson sia entrata in funzione quattro volte dal 2015 al 2017 proprio le quattro volte in cui abbiamo rilevato un offuscamento massacrante da parte della stella questa ipotetica sfera di dyson quanta energia è riuscita ad immagazzinare questo meccanismo darebbe energia infinita a un qualsiasi tipo di pianeta energia illimitata alimentazioni illimitate soprattutto pulite ad una qualsiasi tipo di civiltà con un qualsiasi grado di evoluzione tecnologica per l'eternità basterebbe accenderla qualche volta ogni mille anni ed il gioco è fatto adesso però vi faccio scoppiare il cervello sapete bene che noi guardando nell'universo guardiamo indietro nel tempo vero gli offuscamenti di luce provenienti dalla stella di tabby che dista 1480 anni luce risalgono a 1480 anni fa poiché quegli offuscamenti la luce stessa per rendersi osservabile da kipler e per correre 1480 anni luce a 300.000 km al secondo che alla velocità della luce ci ha messo 1480 anni quindi tenendo per buona l'ipotesi della sfera di dyson questi tizi l'ultima volta che l'hanno accesa è stata 1480 anni fa e se 1480 anni fa questi avevano centinaia di milioni di pannelli solari grandi come la luna intorno al loro sole che staranno combinando oggi 12 agosto 2019 spero che il video ti sia piaciuto e ti abbia acceso un po di curiosità se è così lascia un mega like e se sei nuovo iscriviti al canale noi ci vediamo presto molto presto nel prossimo episodio adieu ciao 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 Grazie a tutti